Siamo a Milano con il dottore Alibrandi che ha gestito i suoi primi due casi con il Navident. Dottore che tipo di casi ha gestito? I due casi non semplicissimi, in quanto il primo avevamo un alveolo ancora perfettamente guarito in sede di 46 terzo quadrante nel quale ho dovuto inserire l'impianto con la mano sinistra, tenendo il manipolo con la mano sinistra. Per quanto riguarda il secondo caso, avevamo pochissimo spazio, un caso gestito con un upright, quindi pochi millimetri i denti vicini ori siamo riusciti a inserire l'impianto perfettamente al centro. Quindi in generale la sua esperienza con il Navident in questi due primi casi? Preciso ma soprattutto rapido perché comunque abbiamo inserito questi impianti flatless, una solida di guarigione, buona stabilità dell'impianto, ma la precisione e soprattutto la rapidità mi ha stupito. Perfetto, dottore grazie e buon lavoro. Io ringrazio io a voi. Grazie. Grazie a tutti.